Aspettare è troppo rischioso, meglio tentare di uscire subito dall'Unione. La prima ministra britannica Ferrazamei ha scritto al presidente del Consiglio Europeo Donald Tusk chiedendo un rinvio breve di Brexit al 30 giugno. Ha anche fatto sapere che se un piano per lasciare l'Unione Europea non verrà approvato prima delle elezioni europee, allora la Gran Bretagna sarà pronta a presentare i suoi candidati. La lettera arriva in vista del Consiglio Europeo del prossimo mercoledì. Da parte sua il presidente del Consiglio Europeo Donald Tusk aveva fatto trapelare l'intenzione invece di proporre un rinvio lungo di un anno, ma flessibile con la possibilità per i britannici di uscire appena si trovi un piano. Ma una soluzione per il momento è lungi dall'arrivare.